Il campo genovese, in pista, oggi il team de Franceschi, il settore di ferro, questo è Gigi Zucchini, che è uno dei più grossi conoscitori dell'agro, anche adesso c'è un pesce. Il lato dei protagonisti, ma di dietro c'è Gino Bacci, sono un pesce in canna, e adesso comincia anche a piovere. Spettacolo!